Musica Avevano intenzione di sezionare i binari della ferrovia e asportarli insieme a dei cavi di rame. L'intervento della polizia li ha messi in fuga, ma uno di loro è stato fermato dopo un inseguimento e arrestato. A finire manette un noto pluri pregiudicato andriese, mentre continuano le ricerche per risalire ai due complici riusciti a fuggire. La tratta ferroviaria presa e di mira riguarda l'Andrea Barletta, dove qualche giorno fa erano state segnalate delle anomalie. 500 metri di binari sollevati su alcuni massi, tipica modalità che precede il loro sezionamento tramite fiamma ossidrica. I poliziotti hanno quindi atteso il ritorno dei ladri, i quali infatti si sono ripresentati sulla tratta ferroviaria per terminare il loro intento. Quando gli agenti sono usciti allo scoperto, i tre soggetti si sono dati alla fuga in due auto distinte. Una è riuscita a far perdere le sue tracce, mentre l'altra è stata inseguita e poi bloccata da due volanti. Alla guida c'era l'andriese pluri pregiudicato, con alle spalle numerosi precedenti per furti d'auto e ricettazione. La sua vettura era stata rubata circa un mese fa. All'interno c'erano attrezzi da lavoro come trapani e avvitatori e non solo. Tutto sottoposto a sequestro, mentre l'auto è stata restituita ad un'ottantenne di Andria. Il pluri pregiudicato è finito nel carcere di Bari e accusato di furto, pluri aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.